ce l'avete fatta, ce l'avete fatta a farli vincere, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta, è finita, è finita stavolta per sempre, è finita, figli di puttano, è finita, è finita, questi non avevano mai vinto in undici giornate, non avevano mai vinto, è finita, è finita, ogni volta che arriviamo a novembre, ogni volta l'anno scorso era con la Cremonese, quest'anno è con l'Udinese, tre giorni prima, pezzi di merda che non siete altro, pezzi di merda, siete riusciti a far vincere l'Udinese, la squadra più scandalosa aveva il peggior attacco, avevano, il peggior attacco della Serie A, avevano questi, il peggiore, mister è finita, è finita, come la gira e la rigiri, è finita, l'avete fatto, la cena per raggruppare tutto quanto, schiaffatevela nel culo adesso la cena, tutta supera il culo, schiaffatevela adesso la cena per raggruppare il gruppo, ma andate a fare in culo va, andate a fare in culo con l'Udinese, siete riusciti a farmi battere dall'Udinese, con l'Udinese siete riusciti, Dio cosa ho fatto al primo tempo io, da mente malata, mi gioco il duo dell'Udinese e me lo sono giocato, perché lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che finiva così io, lo sapevo, lo sapevo, e mi gioco il 2, mi sono giocato 5 euro sul 2 dato a 9, perlomeno mi sono preso 40 euro, figli di puttana che non siete altro, figli di puttana che non siete oltro, come il derby avete fatto, come il derby, rischio di ammazzare la gente con sto furgone, mi fate arrivare alle 8 e mezza a casa, per poi guardare 11 pezzi di bastardi, luridi, figli di zoccola che non siete altro, madonna, 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 come la giri la giri, è finita, è finita, non mi venite a dire è mal arbitro, non me lo venite a dire è mal arbitro stasera, perché veramente vi mangio il cuore, vi mangio, è mal arbitro, madonna, 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 cosa sono riusciti a fare questi, cosa sono riusciti a fare questi, il peggior attacco della serie A, io non so, non so se prendermi a testate contro il vetro e sfondarlo, ma poi glielo devo anche ripagare, non ne vale la pena, non ne vale la pena, e quelli che continuano a cantare, ma che cazzo vi cantate, cosa stracazzo vi cantate, scendete negli spogliatoi, pigliateli tutti con l'ascia, li dovete prendere, ma con l'ascia sulle braccia, basta, basta, ogni volta che arriviamo a novembre è finita la stagione, oggi pure Teo si è fatto male, basta, basta, è finita, una volta per tutte, mettetevelo in testa, è finita, è finita, Basta, dimettiti, basta, 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 io veramente, io non so, l'altro cosa devo dire, cosa cazzo devo dire, questi qua veramente, un rigore, non mi venite, sì, sarà stato anche inventato, ma tu non puoi perdere contro questi, senza neanche segnarne uno, senza segnarne uno, neanche un tiro in porta avete fatto, mamma mia, io mi vergogno, veramente, io mi vergogno, mamma mia, come cazzo è possibile che arriviamo sempre così, come cazzo è possibile una squadra molle, spenta, non avevate fatto mica la cenetta, non avevate fatto, eh, la cenetta quella per andare, per riavvivare il gruppo, ma siete veramente da prendervi, proprio a cagarvi in testa siete proprio, siete una vergogna, siete una cazzo di vergogna, e tutti quelli che dicono ancora vogliamo la seconda stella, ma andate a fare in culo, andate, ma belli belli, andatevene a fare in culo, l'Inter va in casa dell'Atalanta e vince, e non l'ho neanche vista la partita, sono soltanto che ha vinto, ma tu perdi in casa con l'Udinese, ancora c'è gente che dice la seconda stella, la seconda stella, veramente, veramente, guarda, io, io, ne ho già dette tante, ne ho già dette tante, meglio che, meglio che inizio a pensare a quello che sto dicendo, perché veramente, veramente, ragazzi, io non ho, mamma mia, l'Udinese, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, mamma mia, che schifo, sono desolato, proprio, mamma mia, questa è una delle più brutte che abbiamo subito, guarda, una delle più brutte, con la Juve ci potreva anche stare, perché è 10 contro 11, ma questa come cazzo fai a perdere con l'Udinese, ma non a perdere, a non vincere contro questi qua, non avevano mai vinto il peggior attacco in 11 partite, adesso, mi raccomando, tutti zitti, eh, dirige tutti, silenzio, non si dice mai niente, ma, è intoccabile Pioli, eh, prende 4 milioni di euro l'anno, eh, e deve stare lì fino al 2025, eh, silenzio, ma, eh, il nostro allenatore Pioli, punto, punto, fate veramente schifo, fate, guarda, mamma mia, e io, guardate, vi volevo dire anche che mercoledì devo andare a vedere questi qua col Paris Saint Germain, perché ho trovato i biglietti, non lo so se ci vado, ragazzi, non lo so se ci vado, perché questa è un'umiliazione, questa è un'umiliazione, siete proprio lo schifo dell'umanità, siete, adesso voglio vedere la gente che, la gente, adesso aspetto soltanto i video per vedere la gente, continuiamo a tifare, continuiamo a sostenere, ragazzi, andate a fare in culo voi e pure i ragazzi, basta, 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 ma io che chiudo qua, ciao a tutti.